Nel video pubblicato da sindaco Gianluca Festa sulla sua pagina Facebook, la balorda cavalcata di un'auto nera che punta e abbatte i cordoli installati di recente per delimitare la corsia della metro leggera. Il conducente sembra quasi voler compiere una sorta di strike con i brilli trasformando l'asfalto in una pista di bowling e riuscendo in grossa parte nell'impresa. Il veicolo, come si vede, da filmato ripreso da uno smartphone, un cellulare probabilmente in possesso di qualcuno che ha assistito alla scena a bordo di un'auto a ruota, prosegue la sua marcia lungo tutta via Cavur, poi svolta per via Perrotelli. Non è ancora stato definito con precisione l'orario dell'accaduto, ma l'episodio potrebbe essere collocato tra l'una e le due della notte scorsa. Stamane lungo via Cavur le tracce della strage dei cordoli erano ancora evidenti. La nuova volta si è consumata lungo un tratto di strada che costegge il retro della caserma Berardi, una zona militare interessata dall'uscita di mezzi dell'esercito e quindi monitorata anche dalle telecamere della videosorveglianza della caserma Berardi. È stato il sindaco festa a pubblicare questa mattina il video diventato subito virale e a denunciare l'accaduto. La mia indignazione, dice il primo cittadino, appartiene a tutta la città. Direi l'indignazione di un'intera città rispetto a questi imbecilli, a questi vandali, a questi delinquenti. Siamo già al lavoro con l'impegno del vicecomandante Sullo e con la collaborazione dell'esercito e della questura per poter assicurare la giustizia. Perché questa gente deve essere punita secondo la norma. Io li metterei anche al pubblico ludibrio perché la comunità dovrebbe conoscere il volto di questi stolti, di questi perfetti imbecilli che non so cosa volessero dimostrare se non la loro totale follia e idiozia. E spero che siano beccati e siano puniti perché queste pene eventualmente debbano servire, possano servire da esempio per evitare che tali imbecillità siano ripetute. Quella è una zona piena di telecamere. Prima ha citato l'esercito perché ha le spalle della Caserma Berardi. Da stamattina siamo in contatto col comandante, con il questore. Stiamo lavorando. Sappia però questo imbecille, questo stolto, questo stupido totale che prima o poi lo pescheremo. Siamo convinti anche che potrà essere punito.